Mi somigliano tutte e due, sempre lui no? Volevo mettere l'accento sul cast inutile, una parte del cast. E niente, mi somiglia in che senso, come sono io, come lui? Sì, sì, certo che sì. Anche come carattere. Anche come carattere. E' vero, ma anche il linguaggio si. No, io sto cercando il peggio, ha detto, la signora Andrea, perché è peggio Gellini che è schiavone. Ecco, l'unica cosa, eccola lì. Silenzio assoluto. Silenzio intorno. Detto ciò, insomma, sì, mi somiglia caratterialmente, non è che mi somiglia, è che come diceva uno è molto più grande di me, forse un pilo più basso, molto più grande di me, nel senso attoriale del termine, insomma, sono io che faccio il personaggio. Poi se devo fare... scusate, mi immagino doppiato in tedesco, è complicato a Gino. Doppiato in tedesco. No, veramente, doppiato in tedesco? Doppiato in tedesco. Loro doppiato, purtroppo. Anche turchi, eh? No, no, scherzo, ma dovrei essere caduccio. Però si discosta molto da Casalbertone, insomma. Ma per un ottimo di Casalbertone, in questa stessa è anche molto più Roma. Sì, sì, perché lui, insomma, mi ricordo... L'amata Osta. Sì, l'amata Osta, in realtà, amata, da me. E... ma anche da lui, tra la fine, no? Piazza Sciano, dove è al posto dell'Alpino, tra un po' mettono schiavole. Eh? 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 E... insomma, eh... Roma... sì, mi ricordo, lui viene in qualche modo, non so se posso dirlo... interrogato? Posso dirlo? Non posso dire. Verrà interrogato, insomma, da persone di grado più alto, diciamo così, o di pari grado, ma... e piano piano i suoi racconti, i suoi ricordi, insomma, diventano... diventano... realtà, insomma, da piccoli... e niente, lui si ricorda anni prima dove la moglie era ancora... ancora viva e si spiega e si scoprono, insomma, delle cose che dalla prima erano, insomma, più... molto armetico, molto... così, più copertoso, diciamo. e poi vengono... come si dice, come si direbbe, i nodi vengono al pettino... no... no... tre ore che me lo preparo, se sarà, i nodi vengono al pettino... pensavo di essere una mano loro... insomma, ebbene, è così, questo è tutto. I fantasmi ti tornano. I fantasmi, certo, ma lui è così, insomma, un po' nero, un po'... mi piace molto perché è pieno di... stavo a dire una cosa brutta, ma pieno di... 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 cosa è brutta, è che siamo anche in... in streaming, e quindi ci vedono anche... dove ci vedono? ci vedono anche in streaming, quindi questa conferenza stampa la vedono anche fuori di qua... sì, questo lo volevo dire, che stavo dicendo una roba macchia brutta... no... 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 va bene... è streaming, diciamo... è streaming... è... 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 insomma... c'è altro devo dire... ma allora... è... 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 è...